Sono giorni difficili a Napoli per la questione mobilità a causa della chiusura della Galleria Vittoria per lo smontaggio dei ponteggi che la ingombrano da anni. Inoltre è aperto il cantiere per l'elettrodotto in via Marina che dimezza la carreggiata. In più ci si mette anche lo stop della metropolitana linea 1 per ben 4 ore per test e revisioni dell'intera tratta. Via Acton è un inferno di auto, sono tre i punti del restringimento. All'altezza del Beverello, poco prima del barco dell'Immacolatella. E poco dopo il barco dell'Immacolatella, qui si lavora all'installazione di telecamere di sicurezza, con i motorini che sfrecciano sul marciapiede per evitare le lunghe code. Palazzo San Giacomo, per limitare i disagi, ha disposto un piano traffico alternativo, riaprendo alla circolazione via Partenope e sospendendo le piste ciclabili del lungomare. Il traffico nella curva di Castel dell'Ovo risulta abbastanza scorrevole. Il peggio arriva però nelle strade parallele. In via Chiatamone, per esempio, all'altezza della salita che porta verso Monte Echia, qui si crea un maxi imbuto che arriva fino all'incrocio con via Santa Lucia. Una strettoia stradale che rende complicata l'attivazione del piano traffico alternativo. Ma tutto dovrebbe tornare alla normalità da domani mattina, quando alle 6 il tunnel della Vittoria sarà riaperto.